Uno, due, detesto fare gli addominali, li odio. Quando ero più piccolo mi venivano veramente bene, poi con il passare del tempo ho smesso di farli perché mi venivano bene e quindi dal momento che ho smesso di farli ho perso l'allenamento e mi vengono sempre peggio. Succede un pochettino così con tutto. Quando ti rendi conto di avere qualcosa, piano piano la molli perché dice tanto questa qui ce l'ho e poi ti rendi conto che questa cosa in cui eri tanto bravo la perdi. Ecco. Probabilmente quello che sto perdendo adesso, perché l'ho messo da parte, è la capacità di abituarmi alle cose, no? No, non c'entra un cazzo. Ho iniziato che volevo fare gli addominali e poi pensavo di farci una chiacchiera filosofica dietro. Cercavo di fare, guarda sto barbaroffa, è proprio saggio barbaroffa, riesce a fare... No, niente del genere. Vloghettino. La mia vita cambia radicalmente, ancora una volta, perché abbandono l'Italia di nuovo e forse questa volta sarà a tempo indefinito. Trac! Ecco, l'ho detto! L'ho detto, è da due o tre giorni che c'ho un mal di testa che non finisce più, da quando ho saputo la notizia che ho trovato un lavoro a Berlino. Ecco, mi sposto a Berlino. Sono entusiasta di questa opportunità, perché è un lavoro che mi piace, che mi lascia, fra l'altro, molto tempo libero, e che mi permette di vivere in modo dignitoso. Fra l'altro, Berlino è una città che non è assolutamente cara, è alla portata di tante persone. Non è come vivere a Roma o come vivere a Milano, tanto per intenderci. Diciamo che la vita a Berlino ti costa più o meno come a Bologna, probabilmente una cosa del genere, come a Torino, una cittadina così. Sì, il punto è questo, che io ci volevo anche stare un pochino in Italia, perché comunque la mia patria, comunque la lingua del mio cuore è l'italiano, e in fondo in fondo sarò sempre italiano, mi penserò sempre italiano. Però me ne vado perché non mi sento voluto, ecco. Non è che voi non mi volete, lo so, voi mi volete bene, eppure io voglio tantissimo bene a voi. Prima vi chiamavo tsozzi, adesso cerco di darmi un pochettino un tono, ma rispolveriamo un po' tsozzi per questo vlog, no? E' che vivere in Italia è come essere in una relazione, non si dice abusiva in italiano, in una relazione di violenza, no? Per cui stai con il tuo partner, tu gli vuoi bene, lo ami, e però sto partner ti mena, ti mena in continuazione, ti dà delle brutte botte, tutti quanti ti dicono ma lui è così, ma bisogna un po' adattarsi, è un po' una situazione brutta, ma vedrai che le cose migliorano, abbassa la testa e prega perché tutto quanto vada bene. Ecco, questa è la situazione lavorativa in Italia. Tu non fai altro che esporti, che dare il meglio di te, studi per anni, magari parli, nel mio caso specifico, ma non è che è il talento supremo, nel mio caso specifico ti metti a studiare bene quattro lingue, inglese, francese, cinese, parli pure italiano a un certo livello, e dai il meglio di te e ti ritrovi sempre, sempre, sempre bloccato a fare dei tirocini, di modo che le aziende ti pagano una miseria, ti pagano tanto che dici ma forse mi conviene veramente mettermi a fare un lavoro per cui non avrei dovuto studiare. In questo senso sì, in Italia studiare non serve tantissimo per lavorare, almeno per i primi tempi. Io ho fatto un sacco di tirocini, sottopagati, veramente sotto 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 pagati, quindi ho esperienza lavorativa, però per le aziende non è esperienza lavorativa, è esperienza da tirocini, non è la stessa cosa, quindi ti facciamo fare un altro tirocini. Questo ciclo di tirocini è snervante, e le aziende che non ti vogliono far fare un tirocini fanno le carte false letteralmente per farti rimanere a lavorare da loro in qualità di freelance, il che significa che di fatto sei un dipendente, hai degli obblighi da dipendente, però se ti ammali sono fatti i tuoi, se hai un problema sono fatti i tuoi, e devi aprirti la partita IVA, eppure lì è un'altra bella cosa da fare in Italia. Insomma, io ho l'impressione che da noi, io ho viaggiato un pochettino, ho visto, ma da noi devi iniziare a lavorare tardi, verso i 30 anni, è sottopagato, male. Devi strisciare, devi schiattare, ecco che devi fare. Devi continuare a chiedere i soldi ai tuoi a tempo indefinito, e in linea di massima devi schiattare o devi fare 5-6 lavori. La mia idea è di stare all'estero almeno per guadagnare un pochettino di anzianità, almeno per uscire dal circolo vizioso dei sì ma che esperienza c'hai? Eh ma se sei ancora di livello di anzianità junior, cosa ti aspetti? Ti possiamo far fare un tirocinio, però ci devi anche dire grazie. È un po' così che funziona. Certo, direte voi, Barbaruffa, tu hai fatto una facoltà umanistica, perché le lingue, l'interpretazione di conferenza simultanea è comunque una cosa difficile ma umanistica, quindi cosa ti aspetti? Ma parte il fatto che non è detto che se hai studiato qualcosa di umanistico sei una merda e devi morire, cosa che c'è un po' un complesso di inferiorità per chi ha fatto materie umanistiche. Ma poi vedo che la situazione è brutta anche per chi ha fatto materie scientifiche, anche per chi ha fatto delle lauree importanti, delle lauree anche molto ambite, che danno degli sbocchi molto gettonati. Io vedo che la situazione è la stessa. C'è molto più lavoro, però tirocini. Però tirocini che ti porti a casa a 400 euro al mese. e boh, per fare questo tipo di tirocini ti devi spostare in una città come Milano e Torino e auguri a vivere a Milano con 400 euro al mese netti. Eppure, eppure cavolo, tu 5 giorni a settimana ci stai dentro l'ufficio. Eppure cavolo, tu 8 ore al giorno, se non di più, ci stai nell'ufficio. Eppure cavolo, 2 ore di pendolare sopra e sotto te le fai sempre. Eppure, piuttosto che ridurmi a fare una cosa del genere, mi viene da dire, ma sai che c'è? Io provo un po' fuori. L'azienda che ho trovato è simpatica, ci sono un sacco di attività divertenti, sembra un ambiente lavorativo pieno di giovani, di giovani come me, e mi insegnano il tedesco gratis, tra le altre cose. Io non vorrei sembrare ingrato a questo paese, e non voglio neanche fare la figura del tizio che ho trovato l'America! No, no, anche perché chi parte così poi finisce a cazzo, e io, cioè, tutti quanti abbiamo gli amici che hanno trovato il lavoretto a Londra, ragazzi, ho svoltato! e poi vanno a fare il lavapiatti e vivono peggio di quanto sarebbero stati a casa. Questo no. Però il mio discorso è vale la pena provarci un pochino? Vale la pena? Assolutamente sì. Per fortuna ho una famiglia e degli amici che non mi fanno la violenza mentale di farmi sentire in colpa perché semplicemente cerco di vivere in modo più dignitoso tutto qua. Il che significa che dopo che mi trasferirò a Barbaroffa sarà in tedesco, quindi imparate il tedesco se volete. No. Io continuo a fare Barbaroffa, continuo, anche perché mi serve veramente una telecamera e un microfono, e se può fare, assolutamente, e semplicemente vedrete un ennesimo sfondo diverso, vedrete un Barbaroffa un po' più latitante, ancora più latitante, se possibile, rispetto a fiere e eventi mondani con altri youtuber, e Barbaroffa si sposta a Berlino, Berberoff a Berlino. Ve l'ho detto, è una cosa di cui essere felice, un pochino c'ho il magone perché stare in Italia comunque non mi dispiaceva tantissimo, ma vabbè. E voi che fate? Dove siete? Oh, barbaroffiani internazionali, scrivete qua sotto, ci sono moltissime persone, c'è un carissimo iscritto Gabriele che vive in Cina, con cui mi sono incontrato, c'è un iscritto che mi scrive dalla Corea, però c'è il nick in coreano, non lo so leggere, ci sono iscritti da Regno Unito, iscritti dalla Germania, io lo vedo attraverso le statistiche, fatevi vivi, magari facciamo un bel raduno a Berlino, chi lo sa. Siete stati su Barbaroffa, alla prossima.